I nostri delegati, però venivo anche volentieri a dirvi che oggi, da stamattina ad oggi pomeriggio, abbiamo dato ai cinque più grossi settori della logistica il termine per darci una risposta sulla piattaforma che noi abbiamo portato avanti a livello nazionale. Non sto a ripetervi quello che ho detto l'altra volta, però a luglio loro hanno firmato con CGL e CISLUIL un accordo e in questo accordo noi andavamo a perdere parecchio ma parecchio. Abbiamo fatto la piattaforma, abbiamo fatto lo sciopero il 12 l'ultima volta, risultato che stamattina abbiamo dato il termine di una risposta entro stamattina, se adesso siamo entrati in sciopero a livello nazionale. Ora stamattina entro le due, tutti quanti hanno risposto positivamente a quello che le richieste abbiamo fatto. In particolar modo il 12 inizieremo poi un percorso per andare a fissare degli accordi con tutti quanti. Il 12 di gennaio c'è il primo incontro con la TNT. Cosa siamo andati a chiedere e cosa con tutta probabilità otterremo perché le risposte date vanno in quel senso lì. La prima cosa che ci è stato già detto è che al cambio di cooperativa non possono più, come aveva prima, possibilità di sostituirvi. Cioè questa è una cosa per noi importantissima perché mai nel settore della logistica questa cosa era stata affermata. E grazie alla nostra presenza, alla nostra forza sul piano nazionale, oggi non è più possibile al cambio di cooperativa che possono eventualmente sostituirvi. Qui non è mai avvenuto, però potrebbe avvenire. In un momento di crisi potevano anche sostituirvi con altri lavoratori perché il contratto lo prevede e la legge gli dava la possibilità. Noi con questo accordo invece abbiamo eliminato il fatto che al cambio di cooperativa possono portare qui degli altri lavoratori a sostituirvi. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che noi nella realtà andiamo verso l'eliminazione delle cooperative, però andiamo aumentando le nostre richieste dal punto di vista economico. Ora questo è oggetto di trattativa al 12 ma hanno già preso delle posizioni che vanno in questa direzione. Abbiamo chiesto il passaggio, quando uno entra a lavorare nel primo giorno, il passaggio dal sesto livello. Non c'è più il sesto, J, il sesto senior e poi il quinto, ma il passaggio dal sesto, il primo giorno del lavoro, al quinto livello 18 mesi. Poi quando si è al quinto livello, che la maggior parte di voi siete al quinto livello, dopo sei anni di servizio all'interno del magazzino si passa automaticamente al quarto livello. Vuol dire in pratica da 80 a 100 mila euro in più al mese. Quindi fino ad oggi nel settore della logistica non si passava automaticamente da questo a quell'altro livello, dal quinto livello al quarto. Nella realtà noi abbiamo chiesto cinque anni e loro ci hanno risposto dopo sei anni. Dobbiamo andare a ratificarlo, a scriverlo dal punto di vista contratuale. Poi avevamo chiesto che l'infortunio fosse sempre pagato, almeno quello che è all'interno dell'azienda, pagato al 100%. Perché prima, il secondo giorno, il terzo giorno e il quarto giorno non veniva neanche pagato l'infortunio. E i giorni successivi veniva pagato all'80%. Oggi invece l'infortunio, dal primo giorno all'ultimo dell'infortunio, è pagato al 100%, come se lavoraste in azienda. Questo secondo me non è poco. Vuol dire che era fermato un principio che noi avevamo portato avanti. Per quanto riguarda la malattia, è in trattativa. Resteranno come prima quattro eventi, cioè uno ogni tre mesi. Però, a differenza di prima, quello che noi chiediamo è che non paghino soltanto i primi tre giorni in malattia. Ma anche i giorni che vengono dopo vengono pagati tutti al 100%. Cioè se uno sta in malattia sette giorni, o otto giorni, o nove giorni, devono essere pagati tutti un evento al 100%. E secondo me anche questo è un obiettivo importante. L'altra, che voi avete ottenuto adesso, ma delle altre parti non avevano ottenuto, è che tutti quanti abbiate 5,29 euro dell'indenità di mensa, in modo tale che questo mese partiva da voi. Però per gli altri non c'era questa cosa qui. Invece per tutti i dipendenti TNT e per tutti i dipendenti SDA, GLS e DHL e Bartolini, in pratica avranno tutti i 5,29 euro. Grazie a tutti. 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 ottenere questo risultato grazie a quella lotta che abbiamo fatto. Ora, può sembrare poco, però guardate che nei tempi in cui andiamo, già altre volte sono venuto qui da voi, nei tempi in cui andiamo, guardate la televisione, come aumenta il razzismo nei confronti di immigrati. Il fatto che noi andiamo avanti e otteniamo risultato attraverso le nostre lotte, vuol dire che noi abbiamo la testa alta e stiamo ottenendo dei risultati contro tutto il razzismo che c'è nei confronti di immigrati e quindi grazie alla lotta che noi abbiamo messo insieme oggi abbiamo più dignità degli altri che non fanno neanche queste lotte e si fanno massacrare dei padroni in questa situazione. Quindi io credo che dobbiamo essere fieri del fatto che siamo riusciti a ottenere questo risultato grazie a noi, non è che c'è il bravo sindacalista che è bravo a parlare, noi abbiamo messo in piedi la lotta e allora hanno paura di questo. Noi ogni volta che facciamo una lotta, anche alla TNT qui, sono 200-300 mila Euro al giorno che facciamo di danno. Noi se mettiamo noi le mani in tasca ai padroni, ecco che i padroni dicono Enricatto, si Enricatto, se tu non mi dai i soldi che mi servono per avere una vita dignitosa, Enricatto, si ti chiedo, ti faccio lo sciopero perché sono l'unico strumento che noi abbiamo per tenere dei risultati. E d'altronde basta vedere la vita che facciamo per 1300-1400 Euro delle volte e molte volte in certi magazzini, guardate che noi ne organizziamo 15 mila attualmente come lavoratori, in giro per la logistica sono con 170 mila lavoratori. Immaginiamoci in questo settore dove prendono anche 750 Euro al mese, come fa a vivere uno con la famiglia qui in Italia con 750 Euro al mese? E guardate che oggi c'è il razzismo e c'è, ah prendono la casa gli immigrati, tutti contro il romeno, contro l'estracomunitario, contro, contro, contro e nascerà, si svilupperà sempre di più. Se noi non saremmo forti questi si massacreranno negli anni che verranno perché anche gli operai italiani pensano che la colpa del perdere il posto di lavoro dipende da voi. . non è vero il sindicato con noi, ma è vero e dice questo, ma è vero se non era iniziato, non era iniziato ma non è vero il nulio che abbiamo fatto il momento non è vero un'ercizio guardate, la prima volta è 750 e 800 se non ci siamo stati insieme, se non siamo stati non è vero il sindicato, non è vero il nulio e non è vero il momento che abbiamo fatto il ciò questo è quello che abbiamo fatto. E il nostro canale è venuto a questo tipo di più e ancora inizia a più di questo. Ci sono due altre cose, ma è un'attesa iniziale, ma è un'attesa che mi sentite a dire prima, ci sono dei giorni che noi facciamo una scopera, ci sono persone che stanno facendo una scopera e si stanno lavorando per altri, e si stanno facendo una scopera di lavorare in una scopera, che non si facciamo la scopera o non si facciamo la scopera. Ma non si facciamo la scopera, non si facciamo la scopera, Noi abbiamo vinto questa battaglia. Però il sistema capitalistico, ci sono delle aziende che dopo, quando decidono loro perché non dà più profitto, le chiudono. Magari noi vinciamo contrattualmente, ma loro decidono tutto in un tratto che non gli serve più. Chiudono. La TNT è una di quelle aziende che sta attraversando un processo di strutturazione dove il domestico, dove lavorate voi, nei prossimi anni, nella loro mentalità, è di chiuderlo. La TNT vuole occuparsi solo della parte internazionale. Quindi utilizzerà, pensate a voi, la percentuale del lavoro internazionale che fate, terrà soltanto delle parti legate al lavoro internazionale, tutto il resto lo lascerà a Bartolini o a altre situazioni. Il TNT è in cui le mette delle nostre storie in questi anni... ...che non sono perdere la scuola dei domostico, ma che ci sono lavorati in questo... ...che non sono arrivati a l'arrivo in Italia... ...che non ha risposto di l'arrivo in Italia, ma che non ha capito di stagione... ...a che abbiamo bisogno di cercare... ...e che hanno un'arrivo in polonia... ...e che si vanno da Bologna, solo è la scuola del ruolo, ma che si vanno a fare in Italia... ...e che vanno a fare in Francia e in Italia... ...e che si vanno a fare solo il domostico e le nostre corretti... ...vanno a fare in Italia che ci sono reali... Non è vero. Vuol dire che quell'altra, al domestico, lo vogliono abbandonare. Ora nei prossimi anni, purtroppo, ci troveremo di fronte a dei processi di strutturazione che vorranno eliminare una parte dei lavoratori qui all'interno. E allora se noi siamo più forti riusciremo a resistere meglio. Se no, purtroppo, questo è il capitalismo. Guardate che il capitalismo arriva nei vostri paesi. Perché emigrate dai vostri paesi? Sfruttano il petrolio, tirano fuori le materie prime, vi sfruttano all'inverosimile la povertà, la miseria derivata dal fatto della presenza di questi gruppi imperialisti a livello della TNT, eccetera. Pensate le armi che vengono scaricate nel Medio Oriente e nell'area magrebina e in tutta l'area araba. Vengono portate dalla DHL, la DHL che carica l'armamento ai americani in Germania da portare a bombardare nei vostri paesi, eccetera. Questi sono, sfruttano il vostro paese, siete costretti dalla miseria ad emigrare, a venire qui, abbandonare la vostra famiglia per poter trovare un lavoro e venite qui, vi trattano in maniera razzista come fosse degli animali da questo punto di vista. Sono due cose strettamente legate che quando loro non vedono più profitto, chiudono, gliene frega niente di noi come famiglie, eccetera. Gliene frega niente. Ci siamo? Dobbiamo avere chiaro questa cosa qui. Allora, allora, il uno che, stiamo parlando, come usiamo come migrati, siamo per r�unzare qui sono per capire le finanze e le finanze. Non invece, stiamo parlando, stanno parlando, magari, che non è la carattra, e quindi, quando dovranno provare le famiglie e le famiglie, e finiamo parlando, ci stanno arrivando qui, un'obiettura, 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 così, non è possibile che il nostro paese. E quando ci stanno parlando, in questo Partido, non si servono a tutte le persone che si trovano da una città di Libia a tutti i libri e gli uomini, a tutti i libri che si trovano all'arribi e in Loa e la città di Libia, la città che la città di Libia, la città che si trovano da una città di Libia, n'è un'altra cosa, che c'è una cosa che vogliono. Se il riscò di 100% di questo pubblico, ci sono arrivati a tutti i ragazzi di questo pubblico, e ci sono state attivano che tutti i ragazzi di questo pubblico, se non pensano che la mia è in qualsiasi non ne si 했는데 nel settembre poi la loro poluzione e invece noi se si apriamo tolare se si apriamo tolare nel 2016 non si mai'ma è in clichia in ogni ora se le stiamo compriendo e tutti i nostri amici in una strada e noi stiamo provando un'implice perché il TNT è stato raffa di due internazionale e nazionale e se non si raffa di raffa di raffa si raffa di raffa di raffa di 2 TNT TNT nazionale che ha parlato di Italia e TNT internazionale che ha parlato di Italia che si raffa di Italia questo è quello che si raffa di raffa di Italia se ci sono stati in un'agrazione e ci sono stati in un'agrazione quello che è evidente con questa divisione è che quando dividono le aziende vuol dire che una la vogliono rendere in falimento per rafforzare quell'altra per dire che chi la compra le azioni di quella azienda valgono di più anche se è più piccola valgono di più perché l'hanno pulita l'hanno resa pulita loro guardano i loro profitti io ne frega niente se ci sono meno lavoratori da questo punto di vista quindi quello che dicevo prima la nostra forza permetterà di resistere meglio di fronte a quello che può avvenire domani cioè è una vittoria oggi ma per rafforzarci anche per un domani questo deve essere chiaro ora c'è un problema complicato che magari è stato spiegato male anche dei vostri delegati però vorrei che fosse capito fino in fondo è difficile però bisogna capirlo l'azienda l'intel insieme alla vecchia Gesconet e Gesco attualmente no hanno evaso allo stato un miliardo e settecento milioni vi avete presente che vuol dire miliardo e settecento milioni di euro mafia mafia un miliardo e settecento milioni di euro oggi oggi la lintel come la Gesco e la Gesconet sono in pratica c'è un commissario prefettizio che gestisce tutto cioè non possono spendere dei soldi perché è questo commissario di Roma nominato dal tribunale di Roma che gli permette di poter spendere ok ok ok